Laura Boncompagni, Roberto Buongiorno, Gerardi Cartoedit Città di Castello, Laura Boncompagni, Assistant Coaching, diverse categorie, allenatrice del settore giovanile del Città di Castello, Roberto Buongiorno, opposto della Gerardi Cartoedit di Serie B2. Laura, settore giovanile del Città di Castello, è una delle eccellenze dell'Umbria pallavolistica, no? Una bella esperienza. È un'esperienza molto bella, piacevole, tutti i giorni lavorare con queste ragazze è un'emozione sempre più grande, perché ogni giorno lentamente vedi nel loro piccolo dei miglioramenti, una crescita che viene eseguita non solo da me, ma da altri coach che sono molto più preparati di me, è una bella soddisfazione. Laura, tu sei vice in quali categorie? Io, assieme a Amadao Diaz, alleno le due Under 16 regionale e provinciale, la prima divisione Under 18 e la Serie D. Allora, dicevamo, parlavolo Città di Castello, settore giovanile, le eccellenze veramente dell'Umbria, mi ricordi quanti siete più o meno perso il conto? Più o meno il settore giovanile è intorno ai 350 ragazzi, questo è il numero che attualmente io mi ricordo, la maggioranza è femminile, il rapporto tra il femminile e il maschile, la maggioranza sono le ragazze. Laura, un'ultima battuta, passata stagione le Under vi hanno dato tantissime soddisfazioni, c'è da ripetersi, ci proviamo? Ci proviamo, stiamo lavorando per questo e le nostre, la nostra, come posso spiegarti? È l'obiettivo. L'obiettivo nostro è quello di fare crescere soprattutto le due Under 16 e questa Serie D. Roberto, buongiorno, ruolo opposto, su di te sono poste molte delle aspettative della Città di Castello, sei cosciente che questo per Città di Castello, settore maschile, è un anno importantissimo? Sicuramente è un anno di scommessa, ma anche un anno da cogliere a pugno pieno. Sicuramente mi aiuterà tanto, lo spero, e anche il fatto di cavalcare una categoria di livello nazionale può mettermi veramente in mostra e farmi tanto. Serie EB2, ricordiamolo, per te l'esordio, ti ritrovi ad avere dei giocatori, dei colleghi in squadra molto importanti, persone che hanno fatto categorie professionistiche e soprattutto un grande coach che sa lavorare con i giovani, Enzo Sideri. Sì, ma infatti sia l'organico della squadra che gli allenatori sono molto preparati e avere ai squadra giocatori di esperienza sicuramente può dare una grossa mano. L'obiettivo del Città di Castello, prima che ci dimentichiamo, me lo vuoi ricordare? Sicuramente rimanere in categoria perché, come tutti sanno, l'anno prossimo ci sarà la B unica e quindi le prime nove squadre restano in categoria. Quindi l'obiettivo del Città di Castello me lo vuoi ricordare? Fare bene. Il fare bene significa? Almeno tra le prime top scorer del campionato, dai. Allora invece per quanto riguarda la stagione di Roberto Buongiorno, per te chiaramente è la stagione della svolta, no? Non sei più un giovane promettente, sei un giocatore credo importante di questa squadra. Ce l'hai un obiettivo? L'obiettivo è quello di migliorare nelle cose in cui so fare meno e poi mano a mano se faccio 10, 15, anche 20 punti sono contento. E anche magari, Roberto, di cercare di avere più continuità di rendimento nel corso della partita, perché ti abbiamo visto nel corso di questi anni, set importanti dove butti giù palle ogni volta che vieni chiamato in causa e magari troppi momenti in cui stacchi un po' la spina. Sì, infatti sul fatto mentale devo lavorarci sicuramente perché, come hai ben detto tu, nei momenti più importanti magari sono l'attaccante fondamentale che vengo preso in considerazione e poi nei certi momenti che magari stacchi un po' la spina va tutto un po' lo scatafascio.